Una Miss Italia a braccio, meno impostata e con molti backstage. L'ha voluta così Francesco Facchinetti, che per la prima volta condurrà il concorso di bellezza sabato 10 settembre sulla 7 da Jesolo, con due anteprime giovedì 8 e venerdì 9. Tra le novità di quest'anno, la delusion room per le eliminate e lo speed date con Raul Bova. Ma non solo. Durante la serata finale, le ragazze prenderanno la parola per raccontarsi con un linguaggio da social network e le tre finaliste saranno intervistate da Gianluigi Paragone, secondo il format della sua gabbia. Tra gli abiti scelti per le concorrenti, oltre a vestiti tricolore da sposa e l'eleganza del red carpet, spunta anche il bikini.